Buonasera a tutti, benvenuti a questa presentazione. Presentiamo stasera un libro importante che si intitola Ero roccia, ora sono montagna. Abbiamo qui l'autrice Nazim, Nazim Eshki. Nazim è una climber, un'arrampicatrice iraniana, adesso si è spostata dall'Iran, ha girato l'Europa, conosce anche bene l'Italia e in questo libro ci racconta la sua storia, dalla sua nascita sostanzialmente fino ad ora, quindi una storia in divenire, che ci ha raccontato anche in un documentario, Climbing Iran, che è uscito nel 2020 e la cui regista è Francesca Borghetti, una regista e giornalista romana. Nazim in questo libro ci parla della sua vita, ma ci parla della sua lotta prevalentemente e di come ha combattuto per i suoi diritti e per la libertà. E quindi questa sera io vorrei partire chiedendole chi è Nazim adesso, oggi, il 19 febbraio 2024 e chi era prima. E in questo modo vorrei che ci spiegasse anche il significato del titolo della sua opera, del suo libro, Ero Roccia, ora sono Montagna. Grazie a tutti per essere qui, grazie al pubblicatore e grazie a tutte le persone che mi aiutano a essere qui, a raccontare la mia storia. Grazie anche per la vostra domanda, cosa significa. Per me, quando ero un figlio, ho sentito che il mondo non mi vuole, non sono una persona, non sono nessuno e nessuno mi ha visto. Quindi, poi, potrei descrivere che ero come un piccolo rock in a corner. Allora, innanzitutto grazie, grazie a tutti voi per essere qui, grazie al mio editore che ovviamente mi ha permesso di pubblicare questo libro, quindi di essere qui con voi e grazie anche a tutte quelle persone che mi hanno aiutata ad essere qui con voi a parlarvi del mio libro oggi. Grazie anche per la domanda e per quanto riguarda la risposta devo dire che dunque io, da bambina, ritenevo un po' che il mondo non mi volesse e mi sentivo un po' come se fossi nessuno e mi sentivo come se nessuno mi vedesse veramente e quindi mi sentivo un po' messa lì nell'angolino, un po' come una roccia, un sassolino buttato lì così, in un angolo. Sì, perché ero molto difficile anche quando ero, quando ero bambina, ero una persona in cui ero molto stupore, quindi è così che posso descrivere un po' come una roccia. Ma poi, quando ero in gradoo, ero educato, ero in sport, ero in gradoo, 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 like una montagna che è molto grande e tutti per me potrebbero vedere. E poi cos'è successo? E poi è successo che io sono sempre stata una bella tosta, ne ho sempre combinato di tutti i colori, sono sempre stata estremamente testona e quindi ero se vogliamo molto dura, ero proprio una roccia e col passare del tempo sono cresciuta e ovviamente sono andata a scuola, ho imparato tante cose, mi sono dedicata allo sport quindi anche in questo sono cresciuta e sono diventata più sicura di me e quindi mi sentivo più grande quel sassolino cominciava a crescere, cresceva, cresceva e quindi io mi sentivo sempre più sicura e quindi più grande, più grande, più grande, finché a un certo punto mi sono resa conto che riuscivo a vedere ero talmente grande che riuscivo a vedere oltre quel muro e riuscivo a vedere l'altro lato del mondo che prima non riuscivo a vedere, proprio come una montagna che separa due parti diverse arrivi in cima e dall'altra parte vedi qualcos'altro ecco stessa cosa appunto è accaduta anche a me e tra l'altro una montagna gli altri la vedono ecco anche io a quel punto mi sentivo vista so then I was feeling that I want to know that everybody can see me I want to say the way which I have been through I want to tell everybody that it was not the way I came was not the same as your way so it was difficult to be a climber same level as strong climbers in Europe but they didn't have the same background as me so I really worked to dabble and I wanted to tell to the world that yes in Iran of course it can be Afghanistan, it can be other not privileged country it's not the same what you are gaining and what I gain it looks the same but not the same effort so I wanted to say to everybody e a quel punto tutti mi potevano vedere e la cosa mi ha fatto capire che era giunto il momento di raccontare da dove arrivavo dove ero partita per arrivare in cima a quella montagna per sentirmi di essere veramente una montagna e soprattutto volevo comunicare, raccontare, spiegare a tutti come c'ero arrivata fino lì qual era stato il percorso che mi aveva permesso di arrivare fino a lì perché il modo in cui io sono arrivata a fare quello che ho cominciato a fare a un certo punto come climber non era lo stesso modo che ha caratterizzato il modo in cui gli altri in generale diventano climber è stato molto difficile per me è stato molto più difficile per un motivo molto semplice perché per diventare una climber del mio livello in Iran sì il risultato magari è lo stesso di un climber una climber che lavorano, che crescono diciamo in un altro paese ma la mia esperienza è ben diversa da quella di qualcuno che vive o cresce in Europa ho dovuto fare il doppio della fatica per uscire ad arrivare dove sono arrivata e questo volevo dire al mondo volevo dire al mondo che appunto una persona come me che arriva dal mio paese ma anche dall'Afghanistan da altri paesi diciamo meno fortunati quando vince non è come vinci vabbè è come quando vinci quando sei un atleta di un altro paese non esattamente così perché c'è tutto uno sforzo enorme dietro che in altre condizioni, in altre situazioni non c'è e questo sforzo, questo desiderio di essere vista di cui tu parli lo porti avanti nella tua battaglia e ce ne rendi tutti partecipi attraverso i tuoi social dal 16 settembre 2022 non puoi tornare non puoi tornare in Iran dal giorno in cui è morta Mashamini e la tua lotta quindi ha assunto dei caratteri nuovi quali sono? I was a climber e sport person I was thinking I will just do my sport that's empowering other girls and that's it but in this certain moment when Mashamini died in this very sad situation in Iran by the Islamic regime I felt it was me that I died I had nothing more to lose so I felt it's not correct that I say I stay silent anymore I want to say what is happening to us not only my achievement in the mountain but also I have other things to say which are important people are dying I died already so and that was the change I died and I'm born again with a voice Beh fino a quel momento ero stata una climber una persona che amava molto lo sport e quindi la mia vita consisteva più che altro nel fare qualcosa gareggiare cercare di vincere e poi una volta fatto quello facevo qualcos'altro ma appunto con la morte di Mashamini che è stato ovviamente un episodio estremamente triste che ha caratterizzato il regime islamico io mi sono sentita come se fossi morta io stessa e a quel punto mi sono detta non ho più niente da perdere a questo punto però sono morta non voglio più restare in silenzio voglio raccontare quello che sta succedendo quello che stiamo vivendo e non solo parlare del mio sport di quello che faccio io come climber come sportiva ma parlare di queste persone che stanno morendo e quindi in un certo senso è stato come se il cambiamento è dovuto al fatto che è stato come se io fossi morta e poi fossi rinata ma con una voce lei è nata a Teheran all'inizio degli anni 80 proprio in concomitanza con il ritorno della Yatollah come ini e quindi con il ritorno di un regime teocratico fondamentalista i suoi genitori invece si erano conosciuti e sposati in un'epoca precedente in un'epoca caratterizzata da grande libertà e che lei nel libro definisce simile alla Roma della dolce vita a me ha colpito molto questo scarto cioè il fatto che a un certo punto quando è nata lei e quando lei è cresciuta i suoi genitori pur essendosi conosciuti in un'epoca precedente di grande libertà abbiano poi iniziato a seguire le regole dell'Ayatollah e quindi ci sia stata un po' un'involuzione anche nell'educazione dei figli e quindi quello che volevo chiederle chi era lei da piccola è stato un'epoca per la mia famiglia perché non so non so perché non so non so perché avevano i figli era la rivoluzione e quando ero l'arri era la guerra tra l'Iran e l'Iraq era un'escalza even for the food I am sure everyone had been in a very difficult psychological moment of life so the condition was not a condition to grow a child in a healthy way and of course they were not also thinking in a logical and healthy way and the result was that they were forcing children we were just we were just the pillow of our parents' anger to empty their anger on children diciamo che io in quel momento particolare sendo nata in quel momento particolare era un po' se vogliamo una cavia che cosa voglio dire? Che probabilmente in quel periodo i miei genitori come tanti altri non sapevano neanche perché avevano fatto un figlio non lo sapevano si faceva così e quindi così dovevi fare ma non era molto chiaro c'era stata appunto questa rivoluzione all'epoca in cui sono nata io in particolare c'era la guerra in Iraq c'erano delle sanzioni durissime per cui ad esempio c'erano anche veniva il cibo non era disponibile il cibo non era disponibile sempre come in altri momenti le sanzioni erano veramente molto dure la vita era molto dura ed era molto dura anche dal punto di vista psicologico era molto difficile per tutti vivere in quel periodo diciamo che non era un contesto molto salutare per far crescere dei bambini questo no e ahimè non era neanche un contesto che favorisse l'educazione dei bambini da parte dei genitori e assolutamente non un'educazione salutare per l'appunto quindi forse se vogliamo i bambini a quell'epoca potevano essere visti come un cuscino su cui i genitori in quella particolare fase storica sfogavano la loro frustrazione e la loro rabbia su questi cuscini sui loro figli ma ovviamente credo che hanno fatto il meglio per l'educare ma quando guardo questo modo di l'educazione con l'escola islamica e la pressione con la famiglia è qualcosa che non è mai accettabile in un healthy education ora detto ciò sono sicura che facevano tutti il meglio possibile per crescere i propri figli per educarci nel modo migliore possibile però oggi come oggi quando guardo indietro mi rendo conto che effettivamente noi bambini venivamo mandati a una scuola islamica estremista per così dire e la pressione da parte anche della nostra famiglia era sicuramente qualcosa appunto di poco salutare che non si vede altrove e il tuo spazio salutare però tu te lo sei ritagliato attraverso lo sport prima ti sei avvicinata al kickboxing e poi ti sei avvicinata all'arrampicata ce lo racconti as a child I could not really choose which direction I want to go the things was happening in my life and I was taking them as an escape from the society and from the pressure in the family so it was not really in my hand but honestly sport was the first thing which I could go away in in a not religion religious society because a sport you do a sport and I think I was really drowned in my the fantasy of the books and these two saved me to forget the difficulties of life for a child si diciamo che da bambina in quel contesto lì ovviamente non è che potessi scegliere più di tanto cosa fare perché dovevi fare quello che dicevano gli altri e quindi ti succedevano delle cose nella vita che non è che potevi tu avessi molta voce in capitolo così perché c'era tutta una serie di pressioni sociali a cui ovviamente eravamo tutti sottoposti però c'era lo sport ed effettivamente lo sport era l'unica cosa forse in quel contesto lì che non era di matrice prettamente religiosa perché andavi a fare sport non è che facevi cose relative alla religione quindi appunto questo è stata sicuramente una valvola di suogo importante insieme direi però alla fantasia che mi accompagnava quando leggevo i libri e quindi devo dire che tra i libri da una parte e lo sport dall'altra forse sono stati proprio questi i miei due salvagenti che mi hanno permesso di superare questa fase difficile della mia vita e i libri tu li hai scoperti tra l'altro grazie a un editore amico di famiglia che viveva viveva vicino a casa sua quale è stato qual è il tuo libro del cuore? è molto difficile di dire quale libro è il mio frattore libro in diversi tempi della vita come dire come dire E' molto difficile per me riuscire a esprimere un mio preferito nell'arco del tempo, perché man mano che passa il tempo uno cambia e cambiano anche i gusti, per cui non mi sento quasi di poter esprimere un mio preferito. All'epoca sicuramente c'era il piccolo principe che sicuramente mi aveva molto colpito e aveva soprattutto la struttura del libro, mi piaceva tantissimo e io ascoltavo questo libro sulla cassetta e continuavo a riavvolgere e a farla ripartire dall'inizio e ricontinua perché mi piaceva tantissimo. Poi chi ha letto il libro, chi leggerà il libro lo troverà questo riferimento a Momo, che è appunto un altro libro che mi ha colpito moltissimo e poi però da lì devo dire più crescevo, più mi cambiavano i miei gusti, più conoscevo altri libri, insomma ho continuato sempre a leggere e a interessarmi anche di cose molto diverse. Finché a un certo punto mi sono appassionata in particolare di filosofia e mi sono messa a leggere soprattutto Nietzsche e Schopenhauer che diciamo mi hanno un po' indirizzata sulla strada della religione, meglio lasciarla perdere. E il luogo in cui la religione non arriva, come dici tu nel libro, è la montagna, è l'alta montagna. A un certo punto tu passi dal kickboxing che decidi di abbandonare all'arrampicata. Ci racconti com'è successo? Quando ero in kickboxing, ero in love with questo sport. I wantedi essere top in the world con i miei boxe, in mio heart. Ma poi in un certo punto, perché ero la champione, ero in una nationalità per 10 volte e poi era la time per l'internazione di competizione, per andare in un'internazione di competizione, ho ho trovato un hijab. Perché non puoi andare con un hijab per l'islamo della flagra dell'Islamico per ogni internazione di competizione. E in questo punto, ho detto, no, non darò quello che mi piace a quello che mi piace. E quindi, che era il punto, perché l'islamo viene da dove mi oppressi, per questa religione che dice che le donne non sono nulla. E ora ho bisogno di abbandonare questa religione con il mio spirito, e che era un no-go per me. E in questo momento, quando ero in questo momento, quando ero in giro, molto difficoltà di kickboxing, ho scontatoato a rock climbing con alcuni miei, e poi ho trovato questo mondo, che era open. Noi non avevano un giro, 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 un giro. Allora, diciamo che se fosse stato per me, io non avrei mai smesso kickboxing, perché io adoravo il kickboxing. Mi piaceva un sacco, volevo, ogni volta che mi buttavo sul mio kickboxing, mi sentivo veramente la regina del mondo, mi sentivo con i miei guantoni, ero felicissima. Tant'è che sono stata campionessa nazionale dell'Iran dieci volte. Però, dopo che sei campionessa nazionale dell'Iran per dieci volte, cosa succede? Che ti mandano a fare le competizioni internazionali, giusto? Quindi viene questo momento, che doveva essere di per sé anche una cosa, una soddisfazione. Però cosa mi dicono? Sì, puoi andare a competere a livello internazionale, ma attenzione, perché ovviamente devi indossare l'Ijab. E a quel punto io resto assolutamente di sasso, perché mi dico, io non posso andare contro quelli che sono i miei principi, non posso dare la cosa che amo di più alla cosa che detesto di più. Non posso permettere che una religione che tratta le donne, che pensa, che afferma le donne sono niente, valgono niente, e io, vestita così, che mi presento così, in realtà sto facendo uno spottone di questo regime islamico. Non me la sentivo, non me la sono sentita assolutamente. La cosa appunto mi ha veramente creato un enorme, come dire, quasi un rifiuto appunto. Ho detto, basta, ok, è venuto il momento di fare qualcosa di diverso. Ed è lì che in questo momento così difficile per me, quando il kickboxing, ahimè, non era più una possibilità per me, è arrivata l'arrampicata. Perché un bel giorno qualcuno che conoscevo tramite il kickboxing mi ha detto, ma perché non andiamo, non provi a fare un po' di arrampicata? Magari potrebbe piacerti, visto che ti piacciono queste cose fisiche. Quindi mi sono trovata lì, davanti a questo muro di roccia aperto, non era una palestra, quindi non c'era qualcuno in palestra che ti controllava cosa stessi facendo, cosa no. Eri assolutamente, non c'era la gara, quindi non c'era la pressione della competizione, eri tu contro te stesso in sostanza, contro i tuoi limiti. E quindi una situazione completamente diversa e un qualcosa di completamente nuovo che mi ha assolutamente affascinata, mi ha assolutamente catturato dal primo momento. In quel momento in particolare è stato un dono bellissimo. Un dono bellissimo, un dono bellissimo di cui tu parli fin dall'inizio del libro e racconti la tua esperienza, racconti come sei cresciuta nell'arrampicata, come hai imparato ad arrampicare. Ma per darvi un'idea del carattere di Nazim e della sua risolutezza, io vi vorrei leggere un piccolo estratto dal libro. Qui immaginate Nazim che aveva appena incominciato ad arrampicare, era già molto brava, era una delle più brave del suo gruppo e era sempre stata prima ricordata, cioè era sempre stata la prima del gruppo perché era la più esperta. Un giorno il suo allenatore decide che non sarebbe stata lei la prima ricordata, ma sarebbe stato qualcun altro. E sentite la sua reazione. Non era mai successo che non fossi prima ricordata, anche perché a questo punto ero la più esperta. Cosa? Ribattei. Ho deciso così, forza, preparatevi, fu la risposta. Visto che avevo già conseguito risultati importanti, come aver arrampicato ad Alam Koo, Mosen, l'allenatore, riteneva che avessi ormai raggiunto il mio obiettivo. Protestai, irrequieta, come un cavallo che sente l'urgenza di correre. Niente da fare, il coach aveva preso la sua decisione. Capivo le sue ragioni, voleva permettere di migliorare anche agli altri, sottoponendoli allo stress di aprire la fila. Eppure non riuscivo ad accettare di fare un passo indietro. Arrampicare era per me un miracolo che si rinnovava ogni volta e sentivo premere dentro il bisogno di sfidare i miei limiti. Forse Mosen non lo sapeva, ma per me l'Alam Koo, più che un traguardo, rappresentava un punto di partenza. Ora che avevo imparato a volare, non potevo certo tollerare che mi venissero tarpate le ali. Di umore nero, mi sfilai senza esitare l'imbracatura e le scarpette e mi avviai lungo il sentiero, diretta alla fermata dell'autobus per Teheran. E tanti saluti a tutti. Una compagna, Maisam, che spero di aver pronunciato bene, mi seguì e mi raggiunse. Disse che avremmo condiviso l'allenamento e mi propose di salire da prima ricordata. Accettai, ma sentivo ancora viva dentro di me la rabbia. Così, il giorno seguente mi recai alla sede dell'Alpin Club dell'Università e notificai non faccio più parte di questo gruppo. Infilai la porta e andai dritta dritta al negozio di articoli sportivi in cui lavorava un amico per acquistare la mia prima corda. Viedi un piccolo anticipo, il resto lo avrei pagato a rate. Poi incontrai un altro amico dal quale comprai dei moschettoni di seconda mano. Non ebbi bisogno di procurarmi l'imbracatura. Ero in credito con l'Università. Avevo vinto le primissime competizioni di arrampicata indoor e il premio in denaro non mi era mai stato pagato. Mi permisero di tenere l'imbracatura. A quel punto mi ero equipaggiata con le mie sole forze e la sensazione di essere finalmente indipendente mi elettrizzava. Rimaneva una sola cosa da fare. Dovevo trovare un compagno fidato o meglio ancora una compagna con cui arrampicare ma non sarebbe stato facile. Iniziai ad allenarmi nelle palestre di arrampicata e nel giro di poco non ci furono più ragazze al mio livello con cui potessi arrampicare. Tuttavia, arrampicare con un maschio metteva di fronte ad altri ostacoli. Proporre a un uomo di passare una giornata o due in montagna ha delle implicazioni un po' particolari nella società islamica. Se lo scalatore è religioso non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello di recarsi in un luogo appartato insieme a una ragazza che non sia della sua famiglia. Se è sposato, semplicemente non gli è consentito. Se invece non è né religioso né sposato trovandosi da solo con una ragazza libera probabilmente si sentirà in diritto di provarci con lei. Io però non mi davo per vinta e iniziai a guardarmi intorno in cerca di una soluzione. Partecipavo ai festival di montagna e di arrampicata organizzati da piccoli club di volta in volta cittadine diverse. In quelle occasioni arrampicavo con partner occasionali e conoscevo nuove persone. Di certo non mi fermavo di fronte allo sguardo stupito di chi mi riteneva strana o matta. Per me non esisteva obiettivo superiore a quello di arrampicare, arrampicare, arrampicare e toccare con mano la libertà. E allora da donna occidentale più o meno giovane mi viene proprio spontanea una domanda. In questa tua ricerca di un compagno o di una compagna di arrampicata hai mai avuto paura? Of course, the will and the love of climbing make me blind if I have a wrong partner. So, sometimes I didn't have a good partner but mostly I had a good partner which I could continue. So, the fear of police coming was not allowing us to feel other fear. Diciamo che io avevo una tale passione una tale determinazione che non me ne fregava niente io volevo trovare qualcuno che mi facesse appunto con cui potessi arrampicare e quindi magari sì all'inizio avrei potuto avere qualche timore però devo dire che alla fine forse sarei anche stata fortunata non lo so ma sono sempre accascata bene con i miei appunto partner di arrampicata. Detto ciò la paura della polizia ma in realtà non ero sicuramente l'unica per paura della polizia mettiamola così. Ma anche la comunità di climbing e la comunità di outdo sono più open-minded in generale in ogni paese sono più open they are also looking for freedom mostly so there are people who can you can trust nature people more than people who are religious I think in my life. Allora devo dire anche che in generale secondo me non è solo limitato all'Iran però per quanto riguarda la comunità dei climber di chi ama l'alpinismo in generale diciamo in senso più ampio tendono a essere un pochino più ad avere un'apertura mentale diversa rispetto ad altre persone e perché il fatto stesso di avere questa passione per l'arrampicata implica un po' che amino la libertà mi viene da pensare quindi tendo a fidarmi di più di chi ama la natura rispetto a chi ama la religione. Quindi caparbietà e risolutezza come avete potuto sentire anche da questo estratto direi che non le sono mai mancate Anasim e non le è mancato neanche il coraggio di aprire delle nuove vie per consentire ad altre persone di percorrere dopo di lei la stessa strada quindi per far sì che si possa condividere questa passione per la natura e per la montagna e a queste vie nuove lei ha iniziato a dare nomi particolari nomi di donne ma non solo e vorrei approfondire questo aspetto. e normalmente quando si apriva una ruta ovviamente in Iran non c'era enough ruta quindi dopo un tempo io ho incontro tutto quindi ho iniziato a aprire nuovi ruta l'oldo generale ha fatto qualcosa per noi e noi facciamo per la nuova generale e il nome di ruta è che i ruta sono come il nostro baby perché lavoriamo con l'unico spendo l'unico quindi bisogna give a nome e sometimes the name has to be parallel with the feeling you have or what you want to like you want to have in the mountain something which you have from the past then you can put it somewhere that everyone can see that that's connected to you so it can be personal it can be social it can be also supportive for the society and just different people have different opinion and that's the beauty of the idea it's absolutely true and I have to tell you why happened this because when I started to ramping in Iran there were only a lot of of these avenues open to percorrere to have to have to have to do do to the future to E devo dire che appunto dare un nome a una via è un po' come dare il nome a un bambino se vogliamo, perché ti dedichi anima e corpo, ci lavori tantissimo, ci fai uno sforzo tremendo, quindi veramente è un parto vero e proprio diciamo e lo senti proprio, ci sono tanti aspetti che entrano in gioco in questo caso, perché ad esempio puoi avere delle emozioni che hanno caratterizzato quell'esperienza e quindi questo può riflettersi nel nome di quella via, puoi magari voler lasciare un messaggio che incidi nella montagna, magari qualcosa che ti è accaduto nel tuo passato che vuoi lasciare scritto sulla montagna in modo che tutti poi possano sapere che cosa è successo e quindi può essere qualsiasi cosa, in realtà può essere un nome personale, può essere un nome che ha un valore sociale, può essere un nome che magari invece ha una valenza sociale per sostenere certi movimenti, diciamo così, e poi ci possono essere anche persone che non sono d'accordo, a cui non piace quel nome, ma d'altronde è bello che ognuno abbia la propria opinione. Certo, scusate, e a un certo punto della tua carriera di climber decidi di andare via dall'Iran, di spostarti, andare a Dubai per un periodo, poi in Turchia, poi in Armenia, ma poi rientri in Iran e c'è un punto del libro in cui racconti quel giorno, nello specifico, del tuo ritorno a Teheran ed escrivi un po' una specie di scissione interna tra la voglia di ritrovare quelle tue radici, di sentire di nuovo i profumi di casa, di rivedere la tua famiglia e allo stesso tempo anche un po' la ritrosia che provi invece per quel mondo. Quindi, che rapporto hai tu adesso, dopo che hai passato del tempo, con le tue radici? La mia relazione con i miei ritori sono solo tutti gli esercizi che ho fatto là e passato alla nuova generazione, quindi che possono anche provare. È come un messaggio che passi tra le nuove generazioni e le nuove generazioni, quindi sono anche una scuola. e un giorno, spero che potrei tornare, quando l'Iran è libera, possiamo tutti andare a visitare, ma anche posso tornare e fare alcuni dei progetti che ho finito. Quindi, sono loro qui, sono davvero felice di aver fatto tutti. Il mio rapporto con le radici, diciamo che le mie radici sono rappresentate da tutti gli sforzi che io ho compiuto quando ero lì e che sono il frutto di quello che avevano fatto le generazioni precedenti alla mia. E io lascio a mia volta un messaggio a chi verrà dopo. Quindi io faccio un po' da ponte, se vogliamo, tra quello che è arrivato prima e quello che ci sarà dopo. Io sono in questo ponte. E cosa devo dire? Spero che avremo occasione, quando l'Iran sarà un paese libero, di tornare tutti a visitare l'Iran. Magari potremmo andarci tutti assieme. Anche perché effettivamente ci sono tutta una serie di progetti che io avevo in campo, alcuni li ho terminati, altri no. Quindi mi farebbe piacere magari ritornare per riprenderli, quelli che non ho terminato. Ma anche c'è un altro punto molto importante, che nessuno ha diventato le montagne. È solo un uomo che ha fatto l'Iran un altro problema. Le montagne sono tutte collegate con l'altro. Quindi non sento tanto che queste rutture che ho ottenuto sono in un altro paese. Sono tutte nelle montagne e le montagne sono tutte collegate e sono con me, in realtà. Quando sono nelle montagne, mi sento la stessa, mi sento tanto collegato alle montagne come quando ero in Iran. E poi devo dire che c'è un'altra caratteristica importante rispetto a quello che faccio e che mi riporta appunto anche all'altro significato di roots. Cioè non soltanto le radici ma anche le roots e le vie che io ho aperto nelle montagne. Ed c'è un punto importante da ricordare, ovvero il fatto che non è che qualcuno ha deciso che la montagna va divisa in un modo o nell'altro. Quindi questo lì lo puoi fare, quello lì non lo puoi fare. No, la montagna è lì e quindi qualcuno decide di salire, decide appunto di scalare la montagna e come faccio io magari poi di aprire una via in una direzione piuttosto che nell'altra. Ecco, in questo caso secondo me la cosa importante non è tanto dove si trovano queste vie che io ho aperto o che io comunque ho scalato ma non importa che siano in Iran o altrove perché le montagne sono montagne ovunque e secondo me questa è la cosa bella. Sì, è un'idea bellissima che mi fa venire in mente una cosa che mi ha detto Nasim quando ci siamo sentite per telefono qualche giorno fa per insomma parlare un po' del libro e preparare un pochino quest'intervista e lei proprio parlando del libro e del fatto che sarebbe stato tradotto anche in altre lingue e quindi sarebbe stato diffuso in altri paesi mi ha detto che a lei questa cosa non importa perché lei non si sente iraniana, italiana, francese perché prova un po' questo sentimento di cittadina del mondo un po' ecumenico e questo me lo ha fatto venire in mente appunto parlando delle montagne senza confini. Sì, assolutamente, e ovviamente come tu hai detto, come scrivo lì, sento che sono un città dell'uomo e tutte queste fronte sono solo fatte da umani per fare noi contro l'unico, ma praticamente non ci siamo e questo è molto importante per me che questo libro sia in diverse lingue perché il mio messaggio non è solo per una lingua, ma è solo per la lingua, ma è solo per la lingua che voglio che il mondo ascoltare questo messaggio, che significa libertà per tutti e credo che questo è contagioso, quindi possiamo sentire l'unico e reagire e creare un'altra, creare una libertà più grande per tutti. E devo dire che sì, io mi sento proprio così, mi sento una cittadina del mondo a tutto campo e secondo me effettivamente i confini sono stati creati dagli esseri umani al solo scopo di metterci gli uni contro gli altri talvolta, ti viene da pensare e l'aspetto importante di quello che dicevi, ovvero il fatto che io veramente ci tengo tantissimo che il mio libro venga tradotto anche in altre lingue è proprio legato al fatto che secondo me tutti dobbiamo ascoltarci a vicenda e quindi dobbiamo anche leggere, dobbiamo attraverso ad esempio il mio libro voglio comunicarlo questo messaggio, il messaggio del fatto che la libertà è per tutti e quindi voglio e spero appunto che anche quando sarà disponibile in altre lingue il mio libro possa contribuire anche in questo senso a rendere questo messaggio contagioso e quindi veramente a fare la differenza e a spingere le persone sempre di più ad ascoltarsi gli uni con gli altri e a costruirla assieme questa libertà. Adesso vorrei invece tornare un attimo su una serie di aneddoti. La prima volta in cui Nazim è venuta in Europa era al 2014 dopo una lotta estenuante per ottenere i visti anche prima ci raccontava di quanto sia difficile ottenere un visto anche soltanto per un mese per spostarsi dall'Iran e venire in questo caso in Europa e racconta del suo stupore nel vedere donne della sua età che però vivevano in una maniera completamente diversa. Ci racconti dell'Octoberfest? Yes, Oktoberfest in Germany was for me an amazing anbn life, it was like an unbelievable fantasy because police is helping you to drink more was incredible and helping that you don't fight with each other che ti piace, ti danci quindi per me era come wow, questo è un mondo e questo è un mondo Sì, effettivamente devo dire che la mia esperienza all'Octoberfest è stata incredibile, assolutamente nel senso che non ci potevo credere proprio quando ero lì a quello che vedevo con i miei occhi soprattutto la cosa che mi ha più colpito arrivando dall'Iran era vedere la polizia tedesca appunto che stava lì non per evitare che tu ti divertissi no, no anzi per garantire che tutti potessero non litigare uno con l'altro cosa ma per aiutarti a bere serenamente ancora di più e ballare fino alle ore beate una cosa incredibile veramente ed è stato lì che ho un po' capito che c'erano due mondi diversi il mio e poi quello lì che sono diversi ormai però è un po' di tempo che frequenti l'Occidente in qualche modo e quindi una cosa che ti volevo chiedere era cosa pensi di aver insegnato alle donne occidentali e cosa pensi invece di aver imparato da noi? Hey, actually maybe not only woman but also from the human western first when we are in Iran the picture of Europe is a picture of chaos scene no family no family children are without family running around this is a picture they give us in Iran and everyone is sorry everyone is just violenting and raping others and there is no safety for woman and this is a picture and this is a picture which they give us in Iran but then when I come out I was like wow they are just kissing and enjoying the life dancing reading book I don't know everything together so for me it was amazing to see how much love exists without hate because in Iran from the beginning they teach you hate you have to hate Jewish people you have to hate other gender you have to hate neighbor like it's the religion of hate and I found love in Europe especially in Italy dunque io non mi limiterei a parlare delle donne occidentali ma estenderei il discorso un pochino di più a tutta l'umanità occidentale per così dire il mondo occidentale perché dico questo perché noi in Iran a noi in Iran viene propinata un'immagine particolare dell'Europa e quindi mi spiace ma ve lo devo dire l'immagine che abbiamo noi è di un posto assolutamente caotico dove la famiglia ma c'è non c'è ma non ha un ruolo bel preciso i bambini sono lasciati abbandonati a se stessi corrono scorrazzano fare un po' quello che vogliono nessuno se ne occupa e sappiatelo a noi viene detto che qua ne succedono tutti i colori nel senso che le donne vengono violentate ad ogni angolo proprio non c'è c'è questa violenza costante nei confronti soprattutto appunto del genere femminile questa è l'immagine che abbiamo noi in Iran dell'Europa e poi quando io in Europa ci sono arrivata mi sono detta ma incredibile non è così però e mi sono resa conto appunto che quello che vedevo attorno a me erano cose leggermente diverse cioè vedevo persone che si baciavano vedevo persone che leggevano dei libri assieme magari vedevo persone a cui piaceva vivere e piaceva trascorrere del tempo assieme ecco questa è una cosa assolutamente incredibile per me la cosa forse più pazzesca è stata vedere quanto amore ci fosse la fuori nella vita quotidiana dell'occidente amore senza odio perché perché invece in Iran ci insegnano l'odio ci inculcano l'odio fin dall'inizio l'odio per cosa un po' per tutta una serie di cose l'odio nei confronti degli ebrei l'odio nei confronti dell'altro sesso l'odio nei confronti del vicino di casa magari è una religione dell'odio e invece l'Europa per me è stata l'amore e l'Italia in particolare e anche non so non so se ho l'amore molto da l'Europa società come specifiche persone ma l'amore di questo ovunque l'amore è l'amore di l'amore e l'amore l'amore ma l'amore 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 lui ha l'amore si che le persone più confidente. È molto triste che in Iran prendono la confidenza delle donne, che non vogliono essere un uomo, che non vogliono lo che hanno, che non vogliono il corpo. C'è un alto numero di plastiche surgeriesi sull'occhio e sull'occhio e è molto triste perché queste plastiche surgeriesi sono molto veloce anche. Non voglio fare la scuola quando sei healthy, ma in Iran, io credo che tutti i ragazzi hanno una scuola di plastiche sull'occhio o nel corpo e ciò che ho apprezzato è che l'umanità e l'educazione verso quello che stiamo e quello che ha fatto e quello che ha fatto la società fa una grande differenza. E questo è un po' difficile e un po' difficile che non vedo europei o westerni non vogliono cambiare le fasi o che non vogliono cambiare le persone che non vogliono cambiare le persone e questo non è per l'individuale ma anche per la società e anche per la società e anche per la società che lavorano insieme fa questa situazione non è che le donne erano stupi e pensano così, no. È solo la pressione anche per la mia madre che non vogliono amare per loro. È un po' tempo che per me ha fatto molto tempo che potrei amare come un uomo. è una cosa che ho diciamo imparato anche se non so se direi imparato ma più che altro ho osservato riguardo alla società occidentale che mi ha molto colpito europea in particolare è il modo in cui come dire vengono educate le donne a in sostanza guardarsi in un certo modo. acquisendo quindi una certa fiducia in se stesse e una certa come dire un certo stato di accettazione verso se stesse che in Iran alle donne viene assolutamente negato. Nel senso che in Iran le donne vengono private di questa fiducia in se stesse tant'è che appunto mettono in discussione tutto mettono in discussione l'aspetto il loro aspetto corpo è una cosa che ad esempio io trovo molto triste è che ci sono tantissime donne in Iran che ricorrono alla chirurgia plastica per il viso piuttosto che per il corpo è qualcosa di veramente estremamente triste e anche molto pericoloso secondo me perché ovviamente quando stai bene non c'è necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico proprio perché hai queste queste insicurezze dentro di te insicurezze che ti vengono inculcate dalla società in cui tu cresci tant'è che una donna su tre in Iran ha comunque subito un qualche intervento chirurgico di chirurgia plastica proprio in virtù di questa cultura così diffusa così che ferma così tanto la società ed è molto bello secondo me invece quello che vedo in Europa ovvero il fatto che grazie alla al mondo in cui vengono appunto educate le donne ma non lo limiterei però di nuovo solo alle donne perché anche gli uomini ovviamente fanno parte della società che poi contribuisce a creare questa questa cultura diversa ecco nel momento in cui c'è una cultura diversa che valorizza più o meno valorizza appunto un aspetto piuttosto che un altro beh quello fa veramente la differenza e appunto davvero lo ripeto di nuovo lo trovo estremamente triste e anche appunto pericoloso che si ricorra così tanto alla chirurgia estetica anche perché secondo me le donne occidentali potendo non soffermarsi troppo su quello che è il loro aspetto esteriore hanno anche più la capacità in qualche modo la possibilità anche di optare per quello che è l'aspetto interiore di se stesse che immaginate quanto può essere difficile fare questo ragionamento se manco ti accetti a livello proprio di immagine e quindi la cosa bella che io ho notato e che mi piace molto è proprio questo senso di essere tutti assieme nella società appunto ripeto anche gli uomini contribuiscono a questo le donne si sentono più accettate accettate e si accettano un po' di più forse loro stesse questo badate non perché le donne iraniane siano stupide che non si accettano perché chissà che belle età hanno in testa no assolutamente no ma perché sono appunto sottoposti a questa fortissima pressione della società iraniana che fa sì che appunto anche tua mamma ti insegni fin da bambina che comunque tu non ti puoi accettare così perché non vai bene perché lei stessa si sente allo stesso modo appunto e io devo dire che personalmente ad esempio ci ho messo tantissimo ad accettarmi a pensare che fossi anch'io a modo mio carina e questa insicurezza di cui parli mi fa venire in mente un passaggio del documentario che però è raccontato anche fa riferimento a un episodio raccontato anche nel libro Nazim quando torna in Iran diventa insegnante di arrampicata e insegna a gruppi misti sia di donne sia di uomini e mi ha colpito tantissimo la differenza nel modo di comportarsi di fronte alla roccia che hanno i due generi quando tu racconti di quando insegni l'arrampicata quando racconti delle tue lezioni di arrampicata anche nel documentario c'è una scena in cui si riprende questo tema sì ovviamente il uso del nostro corpo di uomini e uomini sono diversi diversi mentalità ovviamente diversi quindi ho trovato perché i ragazzi erano 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 In general, I don't say girls are always better or boys are not. But there were some, I had some students, they were girls. They were very good, but they were never satisfied. They were always thinking they were very bad or terrible because they always heard from their family that they were not good. And this stays there. So imagine I have to tell them so many times that, come on, look at yourself and look at this person. You are good. And it didn't work. And if I could succeed to bring their confidence up at the end of the day, when they go back to the society, come back next week, the confidence was gone again. So it was very difficult as a coach, as a teacher. It was a lot of energy consuming also because everything I was giving them was gone in the society and coming back to me. with zero confidence. But boys, they're easy because you tell them brava and they fly. Ok, effettivamente c'è una differenza e è una differenza particolare, nel senso che c'è una differenza a livello corporeo, ovviamente gli uomini e donne hanno un fisico diverso, questo sì. C'è anche una differenza nell'approccio mentale all'arrampicata, che è molto diverso tra uomini e donne. soprattutto questo era la cosa che notavo di più, ho sempre notato di più, e cioè il fatto che, allora, a prescindere dal fatto che, non so, ad esempio un uomo magari ha più muscoli e quindi fa più affidamento sui suoi muscoli. Invece una donna, magari una cosa che avevo notato, è che ad esempio le donne tenevano a usare di più i piedi, in generale rispetto agli uomini, più i piedi delle mani. Ma c'era una differenza radicale, mi riporta quello che dicevo prima, riguardo alla spavalderia, quasi alla fiducia in se stessi, di ragazzi e ragazze quando mi si presentavano per la mia lezione, perché io dicevo ai ragazzi, allora oggi facciamo quella via lì, gliela indicavo, mi dicevano, ma no, è facilissimo, dai, e facevano qualcosa di più difficile, mamma, che noia. E poi magari provavamo e ciao, non ci riuscivano, vabbè. E poi invece se la stessa cosa la dicevano alle ragazze, dicevano ragazze, allora oggi facciamo questa, loro dicevano, no, ma sei pazza, non ce la faremo mai, ma difficilissima, ma quando mai non ce la farò mai ad arrivare fino in cima. E poi invece lo facevamo e tranquillamente riuscivano ad arrivare fino in cima. Non solo mi verrebbe da dire quindi che erano entrambi, come dire, in errore, ma che talvolta, non sempre, per l'amor di Dio, ma in generale, mi verrebbe da dire che effettivamente le donne poi erano più performanti, diciamo così, di quello che potevano essere i ragazzi. E quando ciò accadeva, tuttavia, le ragazze non erano mai soddisfatte. Perché? Perché proprio di nuovo torniamo a questa pressione della società, per cui le donne non sono mai soddisfatte, non importa quanto sono brave, non importa quanto riescono a ottenere, non riescono mai a sentirsi soddisfatte. E quindi nonostante io, dal canto mio, ben consapevole di quanto sia importante, invece, sentirsi soddisfatti, soddisfatte per noi donne appunto, cercassi in qualche modo di spronarla, di dire, ma brava, sei stata bravissima, così, loro non si sentivano mai veramente brave. Tant'è che, anche se facevo tutti i complimenti del caso, comunque sia, era estremamente difficile riuscire ad arrivare alla fine, magari, della lezione, avendo instillato un pochino più di fiducia in se stesse a queste mie studentesse. Quando ci riuscivo io stessa ero di una felicità incontenibile, ma, ahimè, cosa succedeva? Che poi tornavano una settimana dopo e quella settimana la passavano nella società. E la società gliela succhiava via quella sicurezza in se stesse. Per cui, per me, insegnante, coach appunto, era talmente difficile e anche frustrante, se vogliamo, perché richiedeva un sacco di energia, perché tutte le volte bisognava partire da zero, in sostanza, perché quel poco di fiducia in se stesse che loro riuscivano a guadagnare dopo una lezione, la perdevano appunto nell'ambito del, proprio nell'ambito invece della vita nella società normale. Completamente diversa, invece, la situazione con i ragazzi, dove quando alla fine gli dici bravo, ti dicono, beh, sì, effettivamente non sono male. Ma io volevo lavorare, soprattutto con i ragazzi, perché hanno avuto la stessa difficoltà come me, e io volevo dire, sì, io stavo pensando la stessa, ma io stavo pensando l'amore, ma io sono una uomini, e io sono meglio di tutti gli altri altri, quindi è possibile. E anche, io stavo acceptando ogni tipo di persona. In mia classe, ho avuto persone, dove dovevano 125 kg, e dovevano quando erano 85, così, io accepto tutti perché credo che la montagna è un posto per tutti, e tutti possono crescere, se vogliono perdere l'amore, si possono perdere l'amore, si possono cambiare la dieta, si possono cambiare la dieta, si possono fare molto, non solo la sport e l'amore, è anche l'amore in la vita. Quindi, io volevo fare più questo tipo di educazione, che cambiare la vita, perché la città cambi cambiare la vita, e quindi, io volevo dare questo alle altre persone, che possono cambiare la vita, verso i loro sogni. Detto ciò, forse c'è un altro motivo, anzi, senza forse, per cui avevo questa particolare sensibilità nei confronti delle ragazze, cioè il fatto che io mi rivedevo in loro, perché io c'ero già passata, quindi le loro difficoltà le capivo molto bene, e quindi, quando mi dicevano, ah, ma questo è difficile, dicevo, lo so, però, io sono riuscita, ad esempio, a superarla in questo modo, piuttosto che nell'altro, o quando magari dicevano, Dio, non ce la farò mai, invece io dicevo, no, ce l'ho fatta io, è possibile, e quindi, assolutamente, mi rivedevo molto, forse, in tutte queste ragazze, a cui insegnavo. E poi c'è un altro aspetto, è vero, il fatto che io ho sempre avuto un approccio molto aperto, nel senso che, io insegno rampicata a tutti, non mi interessa chi sei, quanti anni hai, o quanto pesi, perché a volte capitava che venisse qualcuno ad rampicare, che entrava, la prima lezione pesava 125 kg, e poi alla fine se ne andava tutto felice, e ne pesava 85, e quindi, insomma, anche questo è un aspetto utile, e importante, perché secondo me, la montagna è là per tutti, tutti possono godersi la montagna, puoi decidere di fare rampicata, perché vuoi migliorare te stesso, in qualche modo, oppure semplicemente perché vuoi perdere peso, se vuoi, e perché no, ovviamente per una cosa del genere, non bisogna, come dire, affidarsi semplicemente allo sport, bisogna cambiare lo stile di vita, la dieta, tutta una serie di aspetti della propria vita, che però si riflettono, come dire, un po' una sorta di specchio, cioè se uno si impegna nello sport, e poi questa cosa si estende anche al resto della sua vita, magari, quindi devo dire che a me, l'arrampicata ha sempre insegnato tantissimo, e queste lezioni che imparavo dall'arrampicata, me le portavo poi nella mia vita, e con questo cerco appunto di insegnare io, quando tengo le mie lezioni, e veramente penso che tramite l'arrampicata, io sono riuscita a cambiare la mia vita, e comunque questo mi ha permesso anche di perseguire di più i miei sogni, e quindi forse quando lo insegno a qualcun altro, cerco appunto di dire loro la stessa cosa, che appunto può essere un modo per cambiare la loro vita, ma anche per riuscire a realizzare i loro sogni. E allora direi che su questo bel messaggio possiamo chiudere, possiamo chiudere questa serata, questa intervista, io ringrazio tantissimo Nazim, per la sua disponibilità, e per le sue belle parole, ringrazio voi per essere stati qui, ringrazio Garzanti, e buona serata a tutti. Grazie per ascoltare.